cari amici va ora in onda proposte di investimento a cura di francesco boni che vi consiglierà le opere d'arte più preziose sia per le vostre collezioni che per i vostri investimenti in arte buona visione grazie a tutti carissimi amici buona giornata buona giornata come al solito voglio presentarvi una serie di opere particolarmente significative Federico che è tornato dall'Andalusia scandalizzato dalla bellezza del luogo dalla bellezza dei personaggi che ha incontrato c'è stata l'inaugurazione di Willow, hai partecipato? cosa è successo? c'era tantissima gente c'era tantissima gente e sono venute le più belle donne dell'Andalusia ad ammirare le opere di Willow tutti si fermavano? si fermavano tutti tutta no ma è stato un successo straordinario che Federico ha documentato vero? hai filmato quindi vi faremo vedere quello che è accaduto e amici quello che è inevitabile io ve lo dicevo ieri sera presentando un'opera di Willow particolarmente importante di grandi dimensioni vi ho detto attenzione perché ci sono degli artisti che vanno comprati nel momento in cui sono ancora comprabili e vanno comprate le opere più significative di quell'artista ieri ho avuto l'opportuna di proporvi due opere di qualità eccezionale di Willow ieri sera è stata una serata un pochino particolare un po' come si può dire annoiata quindi non particolarmente vivace ma le due opere sono ancora a vostra disposizione chiedetemi e ve le farò vedere perché comprare Willow oggi ve lo dico oggi io non faccio il profeta io vi dico le cose che il mercato sta scegliendo per farle diventare punti di riferimento storici quando vi dicevo che bisognava comprare i keitharing ed eravamo negli anni 70 non è che facevo il profeta già si vedeva quali erano gli interessi culturali ed economici che giravano intorno a quel personaggio quindi inevitabilmente keitharing sarebbe diventato keitharing esattamente quello che sta succedendo su Willow oggi esattamente quello che sta accadendo su Willow oggi quindi non comprare Willow oggi è da persone che non aprono il cervello al mondo di domani al mondo dello sviluppo della comunicazione ve ne sto parlando senza avere le opere in trasmissione ne ho due solamente una enorme e una deliziosa più piccolina legata ai suoi dipinti sui segnali stradali quelli eseguiti su metallo sui segnali stradali dimessi bene oggi non comprare Willow è una stupidaggine io lo so che chi ha che ti posso dire Fontana De Dominici che ti posso dire i quadri pagati milioni i tobe i tapies i quadri pagati milioni in salotto non mette Willow in salotto ma mettetelo nella camera da letto mettetelo nella stanza dei bambini poi quando costerà cifre state tranquilli che lo trasferirete in salotto questo è normale è una questione di intelligenza comprare i grandi oggi per vederli valorizzati nel tempo è una questione di intelligenza di ieri vi ho fatto vedere il più clamoroso dei Mambo del 65 il bambino con il treno quello che D'Ambroso che ha scoperto 40 boccioni negli ultimi anni ha fatto un libro che D'Ambroso ha voluto per la Biennale di Venezia del 2017 e l'ha pubblicato così amici sono i quadri che restano nella storia e non comprare i quadri che restano nella storia è da sciocchi voi preferite comprare il quadraccio dello stesso pittore con l'autentica di Pernacchiotti Pacocchi che oggi va di moda e non comprate le opere celeberrime quelle che vengono dai musei è come se avesse preferito comprare invece del Van Gogh della Notte Stellata che è al MoMA avete preferito comprare il Van Gogh Piripocchio che è della fondazione Van Gogh da sciocchi da deficienti scusatemi i quadri più celebri della storia di un artista soprattutto di artisti che hanno un successo internazionale vanno comprati ma vanno comprati i quadri celeberrimi vanno comprati i quadri che hanno fatto le grandi mostre io oggi ho un patrimonio di opere Federico ha voluto aprire su Garau perché Garau ha voluto aprire perché lo ama perché è uno di quegli artisti ancora largamente sottovalutati ma dovete sentire avreste dovuto sentire cosa diceva Atanasio Soldati dell'opera di Garau e cosa sono le opere di Garau di questo periodo e cosa sono il punto d'arrivo delle ricerche geometriche del XX secolo e sono il punto d'arrivo della poesia visiva del XX secolo sono opere epocali costano due soldi perderle è una sciocchezza un collezionista attento se ne mette immediatamente in casa ed è l'artista che non solo ha raccolto l'eredità dell'astrazione geometrica fondamentale portata in Italia da Atanasio Soldati ma è l'artista che è riuscito ad evolvere questo straordinario discorso questo incredibile discorso sono due opere di grande livello sono due opere di grande dimensione sono due opere da non perdere sono due opere di qualità letteralmente straordinaria dato che è un artista che ancora costa una cifra ridicola è letteralmente un peccato non bloccarle immediatamente allora io vi voglio far vedere subito le opere che vi posso mostrare oggi perché sono non solo di artisti celeberrimi ma di una qualità straordinaria sono tutte opere che vengono da musei sono tutte opere che vengono da mostre pubbliche ne volete vedere una da fantascienza ne volete vedere una da incredibile cioè da portare al museo del novecento ma viene dal museo viene dal museo guarda questa interpretazione dell'hotello di Filippo di Pisis siamo negli anni 40 esattamente nell'immediato dopoguerra 1946 47 l'opera viene dietro c'è l'etichetta dalla galleria d'arte moderna del ridotto di Torino e ha partecipato questa è stata una rappresentazione dell'hotello dove Filippo di Pisis ha fissato il ritratto di otello e viene dalla galleria civica di Torino pensate voi quello che vale oggi un'opera di 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 60 per 43 pazzesco letteralmente pazzesco di Filippo di Pisis ma vedete non un'opera banale non un'opera decorativa non un'opera fatta per essere venduta ed essere esposta nella sala da pranzo della contessa Pirepocchio Serbelloni Vien dal Mare alla Fantozzi no l'opera nata per il museo è vissuta e che ha sempre vissuto a livello museale questo è il depisis storico questo è il depisis indiscutibile amici miei i critici così come gli archivi passano di moda ogni vent'anni ogni trent'anni quando muore il titolare di un archivio quando l'archivio si vende passa di mano cambiano le attribuzioni cosa restano i quadrice le berrimi voi oggi date retta all'archivio A ma poi diventerà l'archivio B poi diventerà quello C per il vostro nipote sarà quello D cosa restano i quadri museali i quadri celeberrimi voi questo non ve lo ficcate nella capoccia e quando non vi ficcate nella capoccia questo elemento che è quello basilare comprerete sempre male a vantaggio del mercato non guadagnerete mai voi guadagnerà sempre il mercato guadagnerà sempre il sistema lo dovete capire dovete comprare i quadri che vengono dai musei dovete comprare le opere indiscutibili celeberrime guarda che razza di De Pisis storico pazzesco una delle opere più affascinanti una delle opere più forti una delle opere più rappresentative di un artista geniale come Filippo De Pisis poi perché io ho sempre adorato Filippo De Pisis Federico perché ho sempre adorato Filippo De Pisis perché perché è un artista enorme che non ha mai ceduto alla pubblicità è sempre stato se stesso De Pisis giovanissimo lui veniva da una nobile famiglia ferrarese i Tibertelli lui era il barone Filippo Tibertelli giovanissimo conosce De Chirico conosce Morandi viene influenzato dalla metafisica come viene influenzato dal futurismo quindi De Pisis conosce Picasso conosce Braque conosce Chagall conosce Kandinsky vive in contatto con personaggi del genere ma mantiene sempre la sua autonomia artistica non diventa mai un pittore metafisica non diventa mai un pittore cubista non diventa mai un pittore astratto ma nel contesto di geni della sua generazione riesce a mantenere una sua autonomia espressiva che lo renderà celeberrimo nell'ambito culturale di tutto il ventesimo secolo ecco ecco la grandezza di Filippo De Pisis ed ecco la grandezza di un'opera eccezionale di un'opera straordinaria di un'opera di livello clamoroso di Filippo De Pisis dato che poi oltretutto Gabriele come fa sempre per i quadri strepitosi ve lo regala ve lo regala ve lo vende al prezzo a cui comprate un acquarellino di Filippo De Pisis non una delle opere più importanti dell'artista che viene da una collezione museale precipitatevi precipitatevi sono le opere vincenti sono le opere di grande qualità che vi do la possibilità di acquisire a cifre ridicole che vi do la possibilità di acquisire a cifre veramente modeste e che poi diventano i punti fermi di una grande collezione così come con entusiasmo straordinario vi faccio vedere una gemma di Filippo De Pisis guardate quello che faceva Crippa nel 51 questo è Crippa vero non sono i Crippini che hanno invaso il mercato ultimamente e che di Crippa hanno solo il ricordo e quando li definisco opere di bottega gli faccio un complimento guarda che cos'è Crippa del 51 delle spirali del 1951 siamo proprio quando nasce la grande rivoluzione culturale del dopoguerra siamo proprio nei grandi eventi cioè Burri Fontana cioè proprio la rottura ma addirittura quello che era stato il cosiddetto movimento nucleare con il giovane Dova questo è uno dei momenti più importanti della rivoluzione culturale italiana una spirale qualcuno mi dirà ma è piccola ma è da grande museo ma è da grande museo è una spirale vera di Crippa del 1951 da paragonare al taglio di Fontana di un'importanza storica assoluta di un'importanza storica straordinaria e costa zero e costa nulla e costa assolutamente niente ve l'ho detto che oggi non vi faccio vedere dei quadri ma vi faccio vedere dei punti fermi nella storia dell'arte cioè delle opere che sono tutte di valore museale che potrebbero tranquillamente essere alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma che potrebbero tranquillamente essere al Museo del Novecento a Milano che potrebbero tranquillamente essere al Mac di Rovereto cioè tutte opere da grande museo avete visto un depisis da tagliarsi le vene dei polsi cioè pazzesco di una incisività di una forza incredibile è stata leggendo una gemma di Roberto Crippa del 1951 di quelle che non esistono se non a livello museale queste sono le opere che contano queste sono le opere che fanno grande una collezione non l'operetta di Crippa che compri a 6.000 euro in asta e che chi conosce Crippa sa che è una cagata pazzesca dai che solo attribuirla a Crippa è un delitto queste sono le verità poi a voi vi bastano i pezzi di carta e buonanotte e fate la gioia del mercato che vi riempie di pezzi di carta ma non vi dà le opere storiche ma non vi dà le opere museali ma non vi dà le opere essenziali qui avete la gioia di poter prendere le opere essenziali strepitose straordinarie ma a che prezzi abbiamo visto la fiera di verona abbiamo visto la fiera di padova avete sentito i prezzi sentite i prezzi oggi sentite i prezzi oggi in trasmissione e allora vi rendete conto di quello che si può comprare oggi a livello museale l'hai visto i due grandi quadri di Garau guarda la bellezza di quelle due opere sono la prima la numero due ambiguità con trasparenze la prima edizione 100 per 81 del 1976 e poi la seconda edizione della stessa opera di due anni dopo ambiguità 1978 due tele di Augusto Garau da urlo da urlo poi vi ho regalato quell'opera di Filippo de Pisces pazzesca e vi sto dando l'opportunità di prendere una gemma di crippa ma di quelle del 51 ma una spirale del 51 quelle storiche quelle che valgono dal punto di vista intellettuale dal punto di vista storico il taglio di Fontana ed è antecedente al taglio di Fontana e dal punto di vista della ricerca e dal punto di vista culturale è addirittura antecedente al taglio di Fontana dai amici bisogna queste opere vanno bloccate queste opere vanno immediatamente prenotate e tolte ai grandi commercianti quel crippa in mano ad uno dei grandi galleristi ci mette una cornice da 2000 euro di quelle giuste e ti chiede un cifrone non ti dico del depisis quello che ti chiede non ti dico del depisis storico quello che ti chiede altro che il piccolo prezzo che vi stanno chiedendo al centralino adesso precipitatevi precipitatevi sono le opere che perderle adesso significa perderle per sempre sono le opere che perderle in questo momento significa perderle per sempre precipitatevi un depisis da urlo da quell'otello letteralmente incredibile poi vi voglio far vedere una piccola cosa ma di grande livello di grande qualità guardate quel gioiellino che è al numero uno una piccola tela 20x30 ma letteralmente deliziosa di Mino Maccari questo grandissimo artista che ha fatto dell'ironia un'arma culturale storica essenziale tra i pittori di satira del XX secolo Maccari è sicuramente il numero uno è un olio su tela delizioso vero autentico prezioso di Mino Maccari voglio mettervi alla prova voglio letteralmente mettervi alla prova voglio sapere se sapete comprare le opere giuste 1500 euro opera vera non un disegnino un olio su tela delizioso di Mino Maccari a 1500 euro tenetelo non è un prezzo non è un prezzo è letteralmente una provocazione non è un prezzo è una provocazione precipitatevi una gemma di Mino Maccari ma ve lo sto regalando quindi il primo che telefona se lo porta via a un prezzo del genere lo compra qualsiasi mercante qualsiasi rivenditore dai velocissimi 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 quella gemma di Maccari le due opere di Augusto Garau una più bella dell'altra quel gioiello di Crippa del 1951 e quell'otello di Filippo De Pisis dal Museo Civico di Torino 1946 opera da fantascienza opera da fantascienza no questo non te lo vendo più precipitatevi 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 tutta una serie di opere cinque gioielli a condizioni di prezzo pazzesche cinque opere ma una gemma di Crippa del genere del 51 a due soldi a due soldi il De Pisis più clamoroso della storia a niente a zero letteralmente a zero letteralmente a zero queste sono le opere sulle quali non potete e non dovete avere un attimo di esitazione ma potrebbe anche l'accio una serie o parte di film precipitatevi perché veramente vi sto dando delle opere ma guarda che cos'è dal punto di vista pittorico guarda che cos'è dal punto di vista del gesto quell'opera di De Pisis è clamorosa letteralmente clamorosa poi inutile dire che vi sto aiutando sul piano del prezzo in maniera incredibile vi sto proponendo delle opere qualitativamente straordinarie di provenienza museale addirittura a cifre non modeste a cifre impronunciabili gioielli precipitatevi il De Pisis il Crippa le due opere pazzesche di Augusto Garau e quella gemma piccolina letteralmente regalata di Mino Maccari come Claire dimmi tutto vuoi far vedere il mambo buongiorno Franco buongiorno a tutti ci l'ha chiesto una nostra amica l'ha intravvisto ieri sera e chiedeva un approfondimento quel mambo amici ci sono dei quadri ve lo dicevo proprio in apertura di trasmissione che rappresentano l'apoteosi di un momento storico che rappresentano in maniera totale proprio la l'espressione artistica più alta di un preciso momento storico ieri sera mi sono emozionato mi sono emozionato io mi emoziono sempre quando parlo dell'opera di Renato Mambur così come tanti anni fa mi emozionavo quando mi presentavo nei primi anni 80 agli esordi televisivi i cretti di Burri o vi presentavo le opere di Tombly che poi oggi comprate a decine di milioni di dollari da Gagosian se c'è un artista italiano che inevitabilmente diventa un punto di riferimento per la cultura dell'umanità è Renato Mambur è stato Renato Mambur l'unico artista al mondo della sua generazione l'unico artista al mondo della sua generazione il cui pensiero sia oggi guida degli uomini politici contemporanei il pensiero di Mambur ha anticipato di 60 anni le problematiche che il mondo contemporaneo deve risolvere dalla Cina agli Stati Uniti dall'Europa dai paesi europei alla Russia Mambur è l'unico artista al mondo al cui al quale un'università come la Sapienza ha dedicato un libro non alla sua opera pittorica ma al suo pensiero Mambur ha anticipato di 60 anni le problematiche che l'umanità deve risolvere oggi poi ha avuto una vita artistica del tutto particolare e l'operazione Mambur dal punto di vista economico è in mano ad uno degli operatori finanziari più importanti del mondo ma deve ancora cominciare io conosco tutta la storia di Mambur Mambur negli anni 60 ha dipinto pochissimo perché? perché non vendeva perché non vendeva Mambur è colui che ha suggerito a Germano Ceylant con la mostra alla Bertesca del 67 i prodromi di quella che poi diventerà l'arte povera nel mondo Mambur nel 67 faceva le performance con Emilio Prini poi oggi purtroppo è scomparso Pio Monti ecco proprio Mambur del 67 guardate quello che faceva allora perché voi possiate capire cosa significa il recupero di Mambur sul mercato contemporaneo Mambur con il mitico diario degli amici del 64 ha dipinto la più importante delle opere del dopoguerra nel mondo che prelude all'arte povera al concettuale ma questo chiedetelo ai più grandi critici ai più grandi direttori di museo ieri sera ho avuto la fortuna di potervi questa è una scultura di Mambur di una performance all'hamburger Banoff di Berlino andate al museo del novecento a vedere Mambur accanto alle opere di Cegoli ma amici ieri sera ho avuto la fortuna di potervi far vedere uno dei quadri più importanti di tutta la storia della pittura concettuale degli anni sessanta il bambino con il treno non so se la regia ve lo può far rivedere il bambino con il treno su monocromo che D'Ambroso ha ripubblicato è stato pubblicato cento volte D'Ambroso l'ha ripubblicato in occasione dell'antologica di Mambur nel 2017 alla Biennale di Venezia un'opera che non ha prezzo un'opera che non ha prezzo un'opera che sono orgoglioso di potervi mostrare oggi e che inevitabilmente e che inevitabilmente diventa un patrimonio dell'umanità uno dei quadri più celebri nel mondo dell'umanità intera rappresenta la proiezione delle idee verso il futuro una delle opere più suggestive una delle opere più affascinanti della storia della pittura degli anni sessanta quanto vale? sono le opere che non hanno prezzo che devo fare? mi devo mettere così? eccolo qua ecco sì però vedi così si vede in trasparenza la tela sono le opere più importanti degli anni sessanta questo è matematico che diventerà uno dei quadri più costosi della storia dell'arte italiana in assoluto uno dei quadri più costosi della storia dell'arte italiana in assoluto amici è un onore poterlo mostrare è un onore Gabriele un giorno potrà dire io vi ho venduto quel quadro io vi ho fatto comprare quell'opera queste sono le opere che fanno la storia e che restano nella storia e che poi vengono contese nelle aste internazionali dai miliardari di tutto il mondo tocca a voi tocca a voi tocca a voi nel frattempo è stata confermata l'opera di Maccari gioiellino di Maccari me l'immaginavo non c'è più ma dovete confermare tutte le opere che ho la gioia di mostrarvi oggi veramente non dovete avere un secondo di esitazione un attimo di esitazione avete delle opportunità storiche qualitative incredibili sappiatene approfittare sappiatene approfittare il più grosso rimpianto ve lo dico sarà arrivare secondi il più grosso rimpianto sarà arrivare secondi su determinate opere sono tutte opere tutte che inevitabilmente finiscono nei grandi musei sono tutte opere quelle che ho la fortuna di proporvi che inevitabilmente finiranno nelle grandi collezioni pubbliche quel Mambo è da follia una delle dieci opere più importanti della storia della pittura italiana degli anni sessanta non una delle dieci opere più importanti di Mambo ma una delle dieci opere più importanti della storia della pittura italiana degli anni sessanta c'è quel crippa del cinquantuno che è confermata l'opera di Mambo complimenti 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 chi sa comprare sa comprare la storia complimenti 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 questa è una gemma quell'opera di De Pisis vi comprate certe cose di De Pisis che letteralmente sono inguardabili che letteralmente sono inguardabili una volta che avete un'opera di De Pisis che nasce da una delle opere immortali e una volta che avete un'opera di De Pisis nata per documentare un'opera lirica immortale custodita addirittura dal museo civico di Torino e avete la fortuna di poterla comprare a un prezzo a cui comprate oggi il più modesto degli acquarelli di Filippo De Pisis il più modesto degli acquarellini di Filippo De Pisis e prendete un'opera di De Pisis da grande museo e prendete un'opera di De Pisis letteralmente da storia dell'arte letteralmente da storia dell'arte questi sono i quadri che vanno comprati questo è vero questo è un crippa del 51 prima dei tagli di Fontana prima dei tagli di Fontana dai quando hai l'opportunità di prendere un'opera del genere bloccala al volo come gioiella quale sì hanno venduto una copia di crippa una schifezza di crippa a due soldi ma io proprio non vi capisco non sapete distinguere il vero dall'autenticato non sapete distinguere sono autenticati tutte e due ma quello vero è una cosa quello d'atelier quello di chiamiamolo da commercio è tutta un'altra cosa compralo quello diglielo a quell'amico che se lo compri compra una ciufola compra un qualcosa che storicamente vale zero è possibile che non lo capite che c'è una differenza enorme tra l'autentico autografo pensato e dipinto dall'artista e tutto quello che viene dalla bottega dell'artista possibile che non vi entra nella capoccia possibile che non sappiate distinguere il vero dal falso è vero che il sistema attuale dei cosiddetti documenti vi confonde però il cervello deve continuare a funzionare al di là delle istigazioni del sistema se no che ce l'avete a fare il cervello al di là delle istigazioni del sistema poi quando uno queste cose ve le dice chiaramente e voi fate finta di non crederci e voi fate finta di non crederci perché io ormai queste cose ve le sto dicendo chiaramente e se non l'avete ancora capite perché non posso essere chiaro al 100% in televisione leggete il mio libro leggete il mio libro lo comprate su Amazon è un libricino che si legge in quanto tempo Federico? Pomeriggio ti metti in poltrona lo stanno ristampando eccolo qua lo puoi cercare nelle maggiori librerie ma se vuoi un consiglio ordinalo su Amazon e in 24 ore ce l'hai a casa così non devi nemmeno uscire di casa per andarlo a cercare ma leggilo imparerai a comprare ma leggilo per difenderti dal sistema leggilo imparerai a comprare lo so che una voce vale meno delle centinaia di voci del sistema però per chi vuole capire una voce può essere illuminante certo per chi vuole capire per chi ha la presunzione di sapere tutto perché si è imbevuto delle chiacchiere del sistema quello è irrimediabilmente perduto è un poveretto incapace di raggiungere un'autonomia fondamentale è incapace di sfruttare il sistema al suo vantaggio perché tanto io lo so che il sistema non lo possiamo modificare come lo so io lo sappiamo tutti è il sistema economico che comanda il mondo non lo possiamo modificare né io né Federico che ha 20 anni anzi gli auguro alla sua generazione però vedo che anche lui fa delle smorfie ha dei dubbi ha dei dubbi anche se gli auguro che la sua generazione superi questo sistema però sappiamo al 99% di non poterlo modificare almeno cerchiamo di capirlo per poterlo sfruttare al nostro vantaggio almeno cerchiamo di capirlo di conoscerlo per avere la possibilità di sfruttarlo al nostro vantaggio invece di subirlo continuamente è l'unica vera difesa che abbiamo è l'unica vera difesa che abbiamo il resto sono tutte chiacchiere dai 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 non perdere le opere qualitativamente storicamente fondamentali che dicevi gioiello che dicevi gioiello ah sì vediamo 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 amici mi iper raccomando mi iper raccomando da non perdere da non perdere da non perdere nelle opere di Gagau nell'opera di De Pisis né il gioiello di Grip ma andiamo avanti no? dice che mi fai vedere solo questi quadri no oggi vi faccio vedere una serie di opere da fantascienza chi l'è? eh ma lo sai c'è scritto urla? De Chirico De Chirico cosa rappresenta? Apollo ma un Apollo particolare eh? un Apollo pensa a Stravinsky il balletto di Stravinsky del 27 del 28 te lo ricordi? no eh eh beh non me lo ricordo nemmeno io nonostante eh nonostante eh tutto eh questo non è eh un normale Apollo a parte che Apollo eh nella eh tradizione greca eh nella tradizione classica eh è il dio è il dio della è il dio della bellezza è il dio eh è il dio vincente il dio bello è il della bella vita della eh ed è eh la guida delle muse la guida delle arti la guida delle musi eh tant'è vero che eh il titolo esatto dell'opera è Apollo Musagete che eh poi è il titolo eh del mitico balletto di Stravinsky eh su questo eh tema De Chirico è De Chirico De Chirico eh se leggete il mio libro eh vi racconto eh tutta la mia giovinezza eh si può dire che io sono stato influenzato da quando avevo eh da quando avevo undici anni eh proprio da Giorgio De Chirico è lui che mi ha eh insegnato eh a leggere i quadri è lui che mi ha portato ad amare il mondo che lui aveva vissuto dell'inizio del secolo eh degli anni venti a Parigi eh è lui che mi ha insegnato eh a leggere i grandi quadri eh a scoprire il segreto delle calligrafie eh pittoriche eh artista amici eh i due più grandi artisti del ventesimo secolo eh sono sono eh i due artisti i due pittori più clamorosi fondamentali del ventesimo secolo sono chi sono chi sono chi sono eh sono un signore che si chiamava Pablo caratteraccio eh personaggio eh difficilissimo ma artista eh geniale Pablo Picasso e l'altro eccolo qua sua maestà Giorgio sua maestà re Giorgio sua maestà Giorgio di Chirico ma perché questi due artisti eh sono così importanti sono così fondamentali perché eh sono coloro che hanno traslato eh nel mondo dell'arte eh due idee fondamentali eh della eh della dell'evoluzione scientifica eh Picasso con il cubismo eh non ha fatto altro che trasporre in pittura le teorie di le teorie di la teoria della relatività ne hai mai sentito parlare? eh che era un certo Einstein un signore personaggio un pochino eh quindi eh Picasso eh eh applica all'arte quella rivoluzione eh che viene eh dalla scienza dall'applicazione della teoria della relatività di Einstein e che cosa fa De Chirico invece? Eh? Cosa fa De Chirico? Clea cosa fa De Chirico? Federico cosa fa De Chirico? Eh? Bravi 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 eh De Chirico inventa la metafisica ma che cos'è la metafisica? Da dove nasce la metafisica? Eh? De Chirico porta la metafisica in pittura poi eh influenzerà Morandi influenzerà Carrà ma quello è un altro discorso eh? ma eh qual è eh quella rivoluzione eh culturale scientifica che provoca l'indagine metafisica bravo Federico bravo è la rivoluzione freudiana eh quindi De Chirico porta Freud eh nel mondo dell'arte e eh tutta l'opera di De Chirico qualcuno mi dirà sì ma c'è tutto il periodo barocco eh c'è il periodo eh dei cavallini eh davanti al castello che c'entrano con la metafisica no c'entrano anche quelli con la metafisica eh se noi andiamo ad esaminare l'animo eh dello spettatore eh anche quelle sono traslazioni dalla metafisica e eh De Chirico nasce in Grecia eh il papà era che faceva il papà di De Chirico non lo sai era un ingegnere ferroviario eh quindi eh De Chirico nasce in Grecia e vive la sua infanzia la sua giovinezza in Grecia eh nei suoi racconti eh lui è stato anche un ottimo scrittore leggete Ebdomero eh una delle opere eh di Giorgio De Chirico che vanno lette eh anche oggi e lui racconta che cominciò a dipingere giovanissimo cominciò a dipingere eh eh fin da 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 bambino praticamente e la sai qual è la prima opere che dipinse Giorgio De Chirico una mela una mela e eh non si asciugava mai sai perché? perché aveva usato l'olio d'oliva ah 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 cioè per dipingere l'olio aveva usato l'olio eh capito proprio di eh consumo comune e quindi naturalmente non si asciugava mai che stava sempre eh molle eh questi sono le eh gli racconti che lui eh proponeva questo è un gioiello è un'opera di dimensioni contenute eh ma che racconta tutta la classicità eh che eh ha invaso eh la formazione culturale eh di Giorgio De Chirico amici eh una collezione senza De Chirico eh è una collezione senza l'inizio eh è una collezione senza un principio eh non esiste eh un collezione come non esiste museo al mondo voi ditemi esiste al mondo un museo del novecento dove non ci sia un'opera di Giorgio De Chirico non esiste eh non può esistere eh manca l'ABC manca l'alfabeto eh avere De Chirico eh e avere Picasso eh è come cominciare eh a saper scrivere eh quindi se tu non sai non hai proprio gli elementi basilari eh che collezione fai eh qualsiasi collezione storica qualsiasi collezione museale eh o poi eh io vi dico questo eh poi naturalmente eh Picasso costa quello che costa eh De Chirico costa quello che costa eh per questo vi dico delle volte secondo le vostre disponibilità ma un alito di Picasso se non potete comprare un olio prendetela ma un'opera grafica autentica di De Chirico eh se non vi potete permettere un olio prendetela eh perché eh eh l'input è l'inizio eh di ogni collezione d'arte eh nel mondo occidentale eh sono i due pilastri eh sono le due colonne portanti quindi secondo le nostre possibilità eh avere un'opera eh di Picasso e di De Chirico è essenziale è letteralmente essenziale questa è un'opera di dimensioni contenute eh ma di una importanza storica assoluta eh perché eh segna eh tutto il percorso De Chirichiano eh eh dalla intuizione della metafisica al racconto classico eh segna in maniera definitiva eh tutto il percorso di Chirichiano eh e ve lo dico francamente è molto più interessante eh un'opera del genere eh che non il Cavallino eh che non la Venezietta eh che non eh l'opera più legata eh eh al collezionismo decorativo questa è un'opera eh ancora di tematica e di soggetto eh museale eh questa è un'opera ancora di tematica e di soggetto assolutamente museale opera di Giorgio De Chirico preziosa o dove eh siamo imbattibili eh dove siamo vincenti è sul prezzo oggi non comprate un'opera storica di Giorgio De Chirico a un prezzo del genere eh questo è eh matematico eh questo è assolutamente matematico mi dica donna mia grazie Opera di Giorgio De Chirico da sogno, opera di Giorgio De Chirico da favola, opera di Giorgio De Chirico incredibile, opera di Giorgio De Chirico da sogno, non perdetela. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Questo è Ugo Celada da Virgilio, guardate questo ritratto di Sofia Loren. E oggi c'è la corsa nelle aste, sul mercato proprio, delle opere di Ugo Celada da Virgilio, delle opere dei pittori legati al realismo magico, alla Schiltian, Cagnaccio di San Pietro, Ugo Celada da Virgilio, pittori che vengono recuperati nell'ambito del realismo magico, così come Gregorio Schiltian, così come gli stessi fratelli Bueno. Quindi c'è proprio una corsa a queste opere. Questa è molto particolare, siamo negli anni Cinquanta ed è uno dei ritratti giovanili della mitica Sofia Loren. Quindi inutile dire che è un'opera destinata ad un successo clamoroso, inutile dire che è un'opera destinata ai grandi prezzi e alle grandi collezioni. Ugo Celada da Virgilio, inizio degli anni Cinquanta, un mitico ritratto di Sofia Loren. Un mitico ritratto di Sofia Loren. Una delizia, una delizia. Crea, 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 crea il de Pisis, crea il de Chirico. Che succede su queste opere? Voglio sentire proprio il vostro entusiasmo. Lo facciamo vedere? E c'è un quadro che non dovremmo far vedere. No, no, prima voglio sentire la conferma del de Pisis, la conferma del Crippa, la conferma del de Chirico, naturalmente. Ugo Celada da Virgilio, prendetelo adesso perché è uno di quegli artisti che fanno, poi fanno la fine di Ligabue, che poi non lo comprate più a nessun prezzo. Sono gli artisti che diventano un mito, sono gli artisti che diventano addirittura leggendari. Mi iper raccomando. Poi i prezzi che vi stiamo dando oggi su delle opere di questo livello. C'è un amico molto gentile, molto carino, che mi chiede ma qual è l'artista che lei comprerebbe oggi in quantità? Proprio per avere la certezza di un investimento solido, importante, non è difficile. Amici, non è difficile, non è difficile. Oggi compri de Chirico, compri una certezza. Compri de Pisis, compri una certezza. Ma è chiaro che sono nomi che già hanno raggiunto sul mercato determinati valori e quei valori non li perderanno mai, aumenteranno sempre. Aumenteranno sempre proporzionalmente all'investimento fatto. Se tu oggi mi compri un'opera di De Chirico storica, eccezionale, guadagni sempre, ma guadagni sempre una percentuale. È come se mi compri un'opera di Picasso, a meno che non compri il super capolavoro. Quando compri il super capolavoro, allora lì il discorso cambia. Se tu mi prendi una delle piazze d'Italia di De Chirico del 1915, quelle già oggi costano milioni. E naturalmente sarai tu, possedendo una delle opere più famose di un artista del genere, ad imporre il prezzo di rivendita delle opere celeberrime. Ma quando compri un artista solidificato nel tempo, stai tranquillo che guadagnerai sempre, ma guadagnerai sempre una percentuale. Poi ci sono invece gli artisti altamente speculativi, come lo erano i Fontana fino all'inizio degli anni Ottanta, come lo è stato Manzoni fino all'inizio degli anni Ottanta. Cioè artisti di importanza storica determinata, assoluta, che entrano nel mirino del sistema del mercato internazionale. Amici miei, se un artista non entra sul mercato internazionale, oggi, i grandi prezzi se li può dimenticare. Questo è assodato. Questo è assodato. Se un artista oggi non entra nel mirino di quei dieci personaggi, perché sono più otto che dieci, più otto che dieci, se un artista non entra nel mirino di quegli otto barra dieci personaggi, che sono in grado oggi economicamente di costruire un mercato internazionale per quell'artista, toglietevi dalla testa che quell'artista possa arrivare alle cifre milionarie. Al di là dei meriti, al di là dei valori storici, il sistema funziona così. E quando un artista entra nell'ambito delle scelte di quegli otto barra dieci operatori finanziari in grado di creare un mercato internazionale su quell'artista, allora potete star certi che avete fatto l'investimento della vita. E tra gli artisti italiani, oggi ce ne sono tre solamente, che hanno questa certezza. Se volete ve li dico, però me li dovete chiedere. tra gli artisti italiani oggi che esistono sul mercato italiano e che ancora non hanno una dimensione mondiale, ma che inevitabilmente la acquisiranno, ce ne sono tre. E io, se volete, ve li dico. Però me li dovete chiedere voi. Me li dovete chiedere voi. Poi, se qualcuno vuole sostituirsi e pensa di sapere e me lo dice, mi fa piacere. Mi fa piacere. Allora, Ugo Celata da Virgilio, delizioso. Opera di De Pisis da sogno e quella gemma strepitosa, quella pollo straordinario, inutile che vi dica che è pubblicato, inutile che vi dica che è un'opera storicizzata di Giorgio De Chirico. Splendida quell'opera di De Chirico, superba quell'opera di De Chirico, straordinaria quell'opera di De Chirico. E' il prezzo, e' il prezzo. Oggi un'opera di De Chirico così rappresentativa, oggi un'opera di De Chirico di questa qualità a un prezzo del genere, non la puoi comprare. non esiste nella maniera più assoluta sul mercato. Non esiste sul mercato nella maniera più assoluta. Non perdere questa gemma di Giorgio De Chirico. Vedi le opere su cui hai la certezza dell'investimento culturale ed economico. vedi le opere sulle quali hai proprio non c'è dubbio, non c'è dubbio, non c'è dubbio nella maniera più assoluta. Le opere da catturare, le opere da non perdere, le opere da bloccare. Grande, superba opera. Prego, prego, prego. È parlato di tre artisti italiani? Come? È parlato di tre artisti italiani? Sì, ho parlato di tre artisti italiani che inevitabilmente entrano, sono già entrati nel mirino di quegli otto, dieci personaggi che sanno costruire il mercato mondiale. Mambor? Mambor sicuramente. Ti chiedono chi sono? Ah, ti chiedono chi sono? Eh, io vorrei che fosse voi. Uno lo avete già individuato, uno lo avete già individuato matematicamente Renato Mambor. Gli altri due aspetto dei suggerimenti da voi e poi magari ve li suggerisco e poi magari ve li suggerisco. Ma il De Chirico lo perdete a quel prezzo? Ma quell'opera particolare di De Pisis? Ma quel ritratto di Sofia Loren di Ugo Celada da Virgilio lo perdete a un prezzo del genere? lo perdete a un prezzo del genere? Guarda che gioiello! E adesso vi devo far vedere vi devo voglio farvi vedere una cosa che il mondo vorrebbe nascondere. chiedete a tutti i più grandi storici dell'arte chiedete a tutti i direttori di musei italiani se questo non è uno dei cinque quadri più importanti della storia di un artista sublime chi è l'artista sublime che ha dipinto quell'opera? è inutile che ve lo chiedo perché adesso ve l'hanno fatto vedere è un'opera clamorosa di Ennio Morlotti del 1949 del 1949 questa è una delle opere più famose nel mondo di Morlotti è una delle opere più pubblicate nel mondo della storia di Ennio Morlotti poi se questo quadro lo guardi dietro ha tutta una serie di etichette questo viene dalla mitica mostra di Morlotti da Gianferraghi questo ha fatto parte del padiglione d'arte contemporanea alle civiche raccolte d'arte di Milano nel luglio del 76 l'opera si chiama Solitudine Solitudine e quando io qualsiasi presentatore vi ripropone la storia di Morlotti no? dalle origini della sua pittura fino alle manifestazioni più affascinanti del naturalismo morlottiano parliamo sempre di un periodo mitico di Morlotti parliamo sempre di un periodo storicamente essenziale di Morlotti che va dal 46 al 49 eccolo qui periodo picassiano è bello come il più clamoroso dei quadri di Picasso non esiste antologica di Morlotti antologica museale di Morlotti dove quest'opera non sia stata invitata è l'opera più celebre al mondo di Ennio Morlotti è l'opera più clamorosamente conosciuta dagli storici dell'arte di Ennio Morlotti ed è l'opera deificata di questo straordinario artista quando vi dico comprare il massimo voi sapete che io con molta difficoltà pronuncio il termine capolavoro che è abusato dai miei da tutti coloro che fanno presentazioni televisive io non lo uso quasi mai il termine capolavoro perché ho rispetto del termine capolavoro ho rispetto di questo termine per me i capolavori nella storia dell'arte sono pochi sono quelli che influenzano in maniera determinante lo sviluppo della pittura dell'umanità chiamare capolavoro il un quadretto banale un quadro normale è un'offesa alla storia dell'arte è un'offesa all'intelligenza di chi ascolta voi quando sentite un mio collega che pronuncia il termine capolavoro e non è davanti che ti posso dire alla cappella sistina e non è davanti ad un'opera sublime di Caravaggio e non è davanti a una delle opere rivoluzionari di Rotko beh quello è un istrione poi può essere simpatico potete accreditargli una cultura particolare ma è un istrione il termine capolavoro si pronuncia solamente rarissimamente di fronte ad opere che hanno influenzato la cultura dell'umanità quindi i capolavori sul mercato ne capitano uno due all'anno ma nella storia delle aste internazionali mentre invece chi segue la televisione è abituato a sentire pronunciare questa parola cento volte durante la trasmissione ecco di fronte ad un'opera del genere posso osare di pronunciare un termine del genere ma oso ma oso guardate che cos'è quest'opera di Morlotti del 49 è emozione pura letteralmente emozione pura letteralmente la gioia di proporvi un qualcosa che avete visto rarissimamente e avete visto solamente se avete avuto la fortuna di visitare i grandi musei italiani perché Morlotti così in commercio non esiste perché Morlotti di questo periodo di questa qualità di questa importanza lo vedete solamente in ambito museale quindi fare il paragone tra quest'opera di Morlotti e qualsiasi altra opera anche di grande qualità dello stesso artista è un azzardo è come che vi posso dire paragonare la Demoiselle d'Avignon di Picasso a una delle opere di Picasso degli anni 50 cioè c'è un abisso c'è un abisso pur essendo ugualmente opere di Picasso questo è uno dei quadri più importanti della storia della pittura italiana della seconda metà del ventesimo secolo se si potesse fare un'ipotetica mostra che mi auguro che qualcuno faccia delle opere determinanti dei più grandi artisti italiani del dopoguerra questa è una delle opere immancabili in questa mostra immaginaria cioè uno dei quadri più importanti che gli artisti italiani abbiano immaginato ed eseguito dal dopoguerra alla fine del ventesimo secolo questo è uno dei quadri basilari questo è uno dei quadri fondamentali quindi è con grande gioia e non vi nascondo con una certa emozione che vi sto dando un'opportunità così clamorosamente importante la trovo una delle opere più affascinanti della storia della pittura italiana della seconda metà del ventesimo secolo 1949 inutile dire che l'opera ha una documentazione museale da far paura inutile dire che l'opera è famosissima proprio a livello storico a livello museale quando all'inizio della trasmissione mi affannavo proprio per farvi capire quanto è diversa l'opera essenziale l'opera formidabile l'opera storicamente inoppugnabile dalle opere di atelier dalle opere della consuetudine dell'artista ci sono delle opere che se tu le paragoni alle opere consuete dello stesso artista commetti un errore clamoroso commetti un errore di quelli incredibili un conto sono le opere che io chiamo di consuetudine di atelier di un artista un conto sono le opere essenziali storicamente a livello museale dello stesso artista non puoi paragonare quest'opera di Morlotti con il 98,9 delle opere di Morlotti non puoi paragonare quel De Pisis con le opere di De Pisis dello stesso periodo non puoi paragonare opere di valore museale di valore storico assoluto con le opere di atelier dello stesso artista questo è fondamentale e purtroppo sfugge alla maggior parte dei compratori mi raccomando non perdete queste opportunità non perdete non perdete le opere le opere le opere Guarda che depisis, guarda che morlotti, quella pollo di De Chirico è qualcosa di formidabile. Quella pollo di Giorgio De Chirico è letteralmente qualcosa di formidabile. Mamma mia, mamma mia, guarda che cos'è, è il prezzo. È il prezzo per un'opera del genere. È il prezzo per una gemma del genere. Sono curioso di sentire il prezzo per un'opera del genere. La vostra opinione nei confronti di un'opera di De Chirico di quel livello e nei confronti di un'opera di morlotti di quella importanza. Sono letteralmente curioso di sentire la vostra opinione nei confronti di queste due gemme, nei confronti di queste due opere. Due opere affascinanti. Dei tre artisti internazionali per adesso degli italiani che già hanno un contatto reale proiettati sul mercato internazionale, per adesso ne avete identificato uno solamente, Renato Mambo. Renato Mambo. Lei chi è? Ah, è sempre lei? No, mi sembra che in quest'ultimo periodo... hai avuto un'evoluzione. Ah sì? Sì, sì. No, no, vabbè. Guardate che meraviglia quella pollo di Chirichiano. e poi vi voglio far rivedere quell'opera di morlotti veramente particolare. volete vedere una rarità? Volete vedere un'opera, anche questa, di valore storico assoluto, anche questa di valore museale assoluto. volete vedere un'opera di uno dei firmatari del Manifesto del Futurismo. Quali sono stati i firmatari del Manifesto del Futurismo? Balla. Balla. Marinotti. Marinetti. Marinetti. Dai. La famosa foto che Schifano... Russolo, brava, brava, brava. E questa è una delle opere rarissime, è una delle opere particolari, affascinanti di Luigi Russolo, che è uno dei firmatari del mitico Manifesto del Futurismo ed è uno dei... ecco, partecipa proprio a quella fotografia famosa scattata nel 1910 davanti alla sede del Figaro a Parigi, che praticamente simbolicamente rappresenta proprio l'inizio della rivoluzione futurista. Luigi Russolo è il musicista della compagnia, ma un musicista d'avanguardia. Luigi Russolo, eccola lì la foto famosissima, Luigi Russolo è l'inventore di quello che in musica venne chiamato l'intona rumori. Ah, ce l'hai. Eh sì, Federico lo trova l'intona rumori, che anticipa quello che poi renderà celeberrimo John Cage, no? quello che poi, cioè proprio la musica intesa nella sua accezione più naturale, no? più legata al mondo della natura, quindi un'avanguardia intellettuale, non solo in pittura, ma in tutte le manifestazioni artistiche. E devo dire che dal punto di vista della storia della pittura, trovare delle opere di Luigi Russolo è veramente difficile, è veramente particolare. Questa è un'opera, eccolo qua, eccolo qua. Qui vedete Luigi Russolo e Ugo Piatti nel laboratorio degli intona rumori a Milano. Una foto celeberrima, praticamente. Trovare un dipinto di Russolo è rarissimo, non voglio dire impossibile, ma indubbiamente molto, molto difficile. E qui ci troviamo di fronte ad una delle sue opere più peculiari. Vedi, non è realista, è vagamente surrealista. È una nevicata che ha poco di reale, no? Propone un'atmosfera del tutto particolare, propone un'atmosfera che si ispira alle grandi soluzioni surreali internazionali degli anni 30 e degli anni 40. Questa è un'opera del 1945, una delle rarissime opere storiche di Luigi Russolo. Molto particolare. Oltretutto ha un prezzo di favore assoluto, oltretutto ha un prezzo assolutamente fuori della norma. Qual è l'opera che volete rivedere? Perché io ho ancora quattro opere che non vi ho ancora mostrato, però prima di mostrarvi le ultime quattro opere che ho sul set, mi piacerebbe sentire il vostro parere, la vostra voce, sulle opere che in questo momento sono in attesa della vostra conferma. Le rileggiamo? Dalle due opere di Augusto Garau fino alla raffinatissima opera, quella splendida nevicata di Russolo. Le rivediamo? Oui, madame. A ver la musique. Occhi 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 Grazie a tutti 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 Boetti Grazie a tutti 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 di artisti Meno Grazie a tutti 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 E siamo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti